Di dire non facciamo calcoli. Poi mi dai anche la tua spiegazione. Secondo me, visto che sta valutando partita dopo partita, quindi diciamo ora la nostra tesi è andata, visto come stava andando la partita, il primo cambio infatti è stato Lionari che entrava da un infortunio e poi Scorsarelli ha detto a Domeghi, comunque vediamo quello più stanco, quindi diciamo secondo me ha puntato sulla formazione migliore ma perché eravamo davanti una squadra con dei buoni valori, con dei buoni giocatori che eravamo visti in tre settimane, quindi secondo me ci aspettavamo del tipo di squadra. E questa è la diottilità. Perché la Versa ha deciso di non fare calcoli? Ma perché le partite sono...